Benvenuti a MeteoGiulianci.it, dopo domani sabato 28 gennaio, nuvole su tutta l'Italia, freddo al nord e regione del medio adriatico e attenzione neve anche in pianura su Piemonte e ovest della Lombardia per contrasto tra aria siberiana in arrivo dai Balcani in Valpadana e venti sciroccali sospinti sulla penisola da una bassa pressione prossima alla Sicilia. Ma vediamo la mappa del satellite virtuale, vedete le nuvole che ricoprono tutta l'Italia. Che tempo allora farà dopo domani? Vedete le nuvole su tutta l'Italia, soprattutto al centro nord, pioggia in Liguria e Toscana, ma soprattutto le nevicate su Piemonte, Val d'Aosta e Lombardia, ovest della Lombardia anche in pianura. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in calo al nord dove farà molto freddo. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buon giorno.